Complimenti, vorrei sapere cosa hai pensato nel momento del match point e soprattutto cosa hai sentito dentro il cuore? No, ovviamente felicità, soddisfazione, perché comunque dopo abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo punto, ma il torneo non è finito, siamo qua, domenica è una partita importante per me, per la mia carriera e vediamo come va, ma sicuramente battere alla fine Noli in un grande slam è un bel traguardo. Quanto sono stati importanti i tre match ravvicinati di novembre nell'affrontare questa sfida di oggi? Sì, secondo me sono stati molto importanti, perché ero anche fortunato di giocare tre volte contro lui, perché ti puoi anche allenare, ma in partita è totalmente diverso, di giocare i punti importanti in partita. Quando l'anno scorso ho detto che ho perso in 3-7-0, ma mi sono sentito più vicino del suo livello a Wimbledon, e ero anche convinto che era così, ma nell'altro senso magari oggi mi sentivo male e finiva di nuovo 3-7-0, quindi devi essere sempre consapevole di quello che fai, a fine anno, l'anno scorso sicuramente mi ha aiutato, oggi i primi due set lui non ha giocato benissimo, se siamo onesti, però dopo al terzo e quarto era tutto abbastanza alla pari, ovviamente sono contento che ho vinto. Quando lui ha cominciato a giocare ovviamente non stava giocando meglio, quanto è stato difficile non farsi prendere dalla fretta di voler vincere i più game possibili in un momento in cui lui non stava giocando bene, perché sai che prima o poi in una partita 3-5 lui tornerà a giocare come sa? La fretta c'è e non c'è, non so come dire, alla fine devi essere anche abbastanza calmo e consapevole delle cose che devi fare, alla fine ero molto focalizzato a giocare punto dopo punto, e alla fine questo oggi mi ha portato alla vittoria, ripeto, dopo il terzo set quando ho avuto match point e l'ho perso, non era un momento semplice, ma nell'altro senso sapevo che dovevo lavorare ancora tanto per farmi venire qualche possibilità, che poi sono venuti anche nel primo game quando ha servito lui sull'1-0, non sono riuscito a brecarlo, poi dopo ho fatto il passo in avanti e se sono riuscito, quindi è fatto tutto un po' a momenti. Non so se hai già visto il telefonino, però volevo capire se avevi ricevuto qualche messaggio che ti ha particolarmente colpito, No, ancora l'ho acceso ma ancora non mi sono messo a leggere, sono venuto subito qua e ho fatto le mie robe per recuperare il corpo. Una cosa che vuoi chiedere sulla tua finale, più la finale di doppio di Bolelli e Bavassori, insomma, Ho parlato anche in campo, è bello vedere un doppio in finale italiano che sicuramente ci potrà aiutare anche probabilmente in Coppa Davis, se parliamo così, ma a parte quello credo che sono dei ragazzi veramente anche ragazzi normali, cioè non è niente di speciale, credo che anch'io sono molto simili a loro e stanno giocando un buon tennis, quindi si meritano di essere lì dove sono, speriamo che possano giocare un ottimo doppio adesso in finale, cioè io sicuramente ho già guardato la semi, ovviamente guardo anche la finale e speriamo che possano fare quel passo importante per loro. Grazie. Grazie.